I'm going to say a few words in Italian for the community and for our friends from Teleischia who will be broadcasting it in the island to convey our special message of closeness and love and support. Sono qua a nome dell'associazione L'Idol Italy of Los Angeles e della comunità italo-americana di San Pedro per esprimere la nostra più profonda solidarietà e vicinanza nei confronti dell'isola di Ischia. Come sapete, lo scorso 26 novembre Ischia è stata devastata da una frana che finora è costata la vita a 11 persone, con un disperso e ha causato oltre un migliaio di sfollati. La città di San Pedro ha dato dimora e una nuova vita a generazioni di ischitani che, pur avendo lasciato la loro isola, hanno sempre tenuto un fortissimo legame con Ischia. La frana della scorsa settimana ci ha colpiti tutti nel profondo. Ciascuno di noi qua presente ha un fratello, un cugino, un parente, un amico che si trova a Ischia in questo momento e che è stato segnato da questa tragedia. Cari amici di Ischia, anche se ci troviamo a migliaia di chilometri di distanza, speriamo che le nostre sentite preghiere e il nostro affetto vi portino un po' di conforto perché non siete soli. Vi siamo vicini con lo spirito, con il cuore, con il pensiero. Cerchiamo anche di porgere un piccolo e tangibile segno del nostro impegno per gli aiuti più immediati tramite la nostra racconta su GoFan.me. Vorrei anche cogliere l'occasione per ricordare le undici vittime e i loro nomi. Salvatore Impagliazzo, che domani avrebbe compiuto 32 anni, sposato con Eleonora Sirabella, di 31 anni, Gianluca Monti, 37 anni, marito di Valentina Castagna, 37 anni, che ha perso la vita con i loro piccoli Michele, di 15 anni, Francesco, di 11, Maria Teresa, di 6. Maurizio Scotto di Minico, di 32 anni, marito di Giovanna Mazzella, di 30, e genitori del piccolo Giovanni Giuseppe Scotto di Minico, di appena 21 giorni. Niccolinca Ganceva Biagova, di 58 anni, e poi abbiamo Maria Teresa Arcamone, che ancora risulta scomparsa, e speriamo venga ritrovata sana e salva. Carissimi amici di Ischia, siate forti, vi amiamo, vi siamo vicini, siete i nostri fratelli e sorelle, Coraggio Ischia. E allora, la storia che vi raccontiamo stasera è una storia direttamente connessa all'alluvione di Casamicciola, al disastro del 26 novembre scorso, ma è anche una storia di generosità e solidarietà, che arriva dagli Stati Uniti. Arriva dagli Stati Uniti, ma arriva sempre da amici ischitani. Innanzitutto diamo il benvenuto questa sera a chi questa storia ce la racconterà. Bentrovato a Gio Buscaino, che è un consigliere comunale della città di Los Angeles, in particolare di San Pedro, un nome che, una cittadina che a Ischia è molto conosciuta. Buonasera Gio, bentrovato. Buonasera a tutti, siamo qui in San Pedro, la città di Los Angeles. Abbiamo fatto il germellaggio con la città, il paese di Ischia, però questi momenti quando Ischia soffre, San Pedro soffre. Qui in San Pedro siamo uniti a voi nella preghiera, nel cuore, nello spirito. Diciamo che voi vi siete visti venerdì scorso, il 2 dicembre alle 18, per un'iniziativa molto particolare. Abbiamo visto anche le immagini che ci sono arrivate e che abbiamo trasmesso per una raccolta fondi. Ci racconti quella sera, per quello che puoi raccontarci? Abbiamo ottenuto un candlelight vigil per le vittime del disastro qui in San Pedro, nel Little Italy, Piazza Miramare, perché abbiamo visto telegiornale il disastro in Ischia. E qui in San Pedro ci sono tanti ischitani e siamo lontani, certo, però siamo vicini nel cuore. Nello spirito della nostra sorellanza sappiamo che siamo pronti ad aiutare in ogni mondo, ogni mondo possibile. Avete anche dato inizio a una raccolta fondi, anche con ottimi risultati. Immagino ci sia stata, almeno dalle immagini, c'era grande commozione, grande partecipazione emotiva nel partecipare a quella veglia con le candele. Sì, questa parte di Los Angeles, negli Stati Uniti, questo è più piccolo di fare. Quando l'italo-americano comune siamo scritti, siamo come una famiglia. Quando la famiglia in Ischia, inoltre parti d'Italia soffrono, noi soffrono. Abbiamo fatto qui in Los Angeles, Little Italy, associazione, un GoFundMe, soldi per le vittime, ricordiamo qui in Los Angeles. Per tutti gli italo-americani qui in Stati Uniti, anche in Italia, GoFundMe per gli italo-americani, speriamo che ricordiamo soldi per le vittime e le famiglie. Anche qui, nel porto di Los Angeles, speriamo che abbiamo fatto un germellaggio con il porto di Napoli. E questi sono i momenti quando abbiamo questi germellaggi. Vogliamo che il porto di Los Angeles inviagli materiali per le famiglie che bisogneranno adesso. In questo momento c'è un grandissimo bisogno di vicinanza per l'isola di Ischia. C'è sicuramente per tante famiglie un grave problema economico, perché dalle immagini avrete sicuramente visto quel fiume di fango che ha invaso Casamicciola e che ha tirato giù tante case, altre le ha invasi, ha rovinato tutti i mobili, tutte le cose all'interno delle case, gli elettrodomestici. C'è un grandissimo bisogno di aiuto. Immagino che le immagini siano arrivate anche in televisione lì in America. Penso che le abbiate viste. Non solo voi italo-americani, penso che le abbiano viste un po' tutti. Non possiamo immaginare il dolore di queste famiglie. Ancora qui in Los Angeles, in San Pedro, preghiamo per tutte le famiglie. In Ischia sono consiglios qui in Los Angeles. Parliamo tante volte di turismo. Nishia è una grande città per turismo, non solo per gli italiani, ma per gli americani, per tutto il mondo. Noi sappiamo che quando l'isola soffre, anche l'economia soffre. Ho parlato con l'ambassadore Zappia, l'ambassadore americano di Italia, anche qui in questa regione, il Consolo General, Silvia Chiave. Qui sai che vogliamo fare tante cose per aiutare la famiglia nell'isola di Ischia, perché siamo lontani, però vicino al cuore. Io ti ringrazio di averci testimoniato questa vicinanza e ovviamente ti dico che Tele Ischia è pronta ad esservi vicino anche nel voler comunicare con la comunità ischitana. Restiamo a disposizione per altre notizie. Le immagini che ci avete mandato da Los Angeles hanno avuto un grande successo, c'è stato un grande apprezzamento da parte della popolazione ischitana per questo gesto anche simbolico di voler stare sotto la pioggia a dedicare un pensiero, a dedicare del tempo agli schitani, agli abitanti di Casa Micciola, per cui noi siamo qui, pensateci. Di nuovo, dimando preghiere, mando un abbraccio per tutti. Qui in San Pedro, in Los Angeles, tutti gli italiani, americani, tutti gli Stati Uniti, siamo uniti con tutti in Ischia. Però siamo italiani, siamo uniti, siamo forti, preghiamo per tutti nell'isola e speriamo che tutto va bene con gli effetti di recovery in Ischia. Però siamo qui per aiutarci, va bene? Grazie, grazie allora a Gio Buscaino e grazie a tutti voi che ci avete seguito da casa.